Benvenuti cari follower. Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di sostenerci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al canale, attivando la campanella su tutte le notifiche, in modo da ricevere la notifica immediatamente dopo ogni nuovo terremoto che si verifica in Italia. Se la terra trema forte nel sud Italia oggi, martedì 7 novembre 2023, sono circa le 11 e mezza del mattino, secondo il Centro Sismologico Europeo, il terremoto è avvenuto nel sud del Lazio, precisamente a 91 chilometri da Roma, 4 chilometri a ovest di Sora e ad una profondità di 14 chilometri dalla superficie terrestre. L'intensità del sisma ha raggiunto circa 3 gradi della scala e i residenti hanno avvertito una leggerissima scossa che è durata. Per alcuni secondi questo terremoto non ha causato alcun danno. Alla fine vi auguro di rimanere in buona salute.